E' bella a tutti ragazzi, noi siamo Li27i, io sono Isamon600 e qua con me c'è Manzulino Oggi ragazzi siamo in un video particolare, un video diverso dal solito Oggi ragazzi ci inseriremo un'arma da software Allora ragazzi, questo è l'M500 Long Nero, dovrebbe essere Con una mimetica zombie, quindi ragazzi una cosa che trattiamo tanto sul canale Ragazzi come vedete, appena apriamo il pacco, ovviamente sopra il pacco c'è una roba qua scritta in francese Che non so che cazzo vuol dire, ok quindi è posto E quindi ragazzi, appena apriamo troviamo il calcio che è qua, abbastanza pesante diciamo Molto pesante, più del resto del fucile Come vedete qua ragazzi c'è la mimetica zombie, molto molto ma molto figa ragazzi Vedete, fatto tipo a graffi, molto bella, mi piace stra tanto Poi vabbè ragazzi abbiamo la parte davanti del fucile Qua le viti per montare il fucile e tutto quanto Questo invece ragazzi è il biberon Che serve per ricaricare il caricatore del fucile a pompa E poi ragazzi qua infine abbiamo il piccolo caricatore Infatti ragazzi è molto piccolo, continua tipo 8 colpi se mi ricordo bene Quindi vi consiglio ragazzi tipo un caricatore Esatto bravo, un caricatore aumentato Dalla regia ci aiutano Vabbè ragazzi ci vediamo quando ho montato il fucile Eccoci ragazzi, ecco il fucile montato Adesso ragazzi farò vedere come caricare il caricatore E poi faremo la prova di tiro Ragazzi mi sono indicato che qua c'è anche un pulisci canna Vabbè qua c'hanno due perché è dell'M4 Ragazzi se vedrò che vi piacciono questi tipi di video di recensione Vi porto altre armi perché io e Manu siamo pieni di armi Anche rotte, anche rotte però siamo pieni Abbiamo M4, AK, M1911, Glock 17 Adesso a Manu arriverà pure il cecchino È la berretta, è vero la berretta pure divina Ecco ragazzi questo è il caricatore Piccolino l'ho fatto vedere prima Il biberon ragazzi dovrete riempire i proiettili qua dentro Ecco grazie, la regia è molto attiva Cioè è molto attiva oggi Allora ragazzi come vedete qua aprite e caricate tutti i proiettili qua dentro Dopo aver messo i proiettilini aprite questo coso come ho fatto prima E avrete questo tipo di siringone abnorme Lo infilate qua dentro e premete tipo un paio di volte finché non diventa bello duro Un paio di volte lui ha premuto il cimocino Ecco finché non escono tutti i proiettili Questi sono i video degli 27 Ragazzi una volta carico infatti volaranno via tutti i proiettili perché è pieno Ed eccolo qua L'antelana mimetica bellissima Vabbè già fatto vedere prima però Sì però è troppo bello come si deve far vedere due volte Ok ragazzi dopo infiliamo il caricatore qua dentro Ma vabbè i bei proiettili Fanno tipo fanno così tipo i proiettili Come fanno essere otto così tanto Ma che cazzo mi sono E infilate qua dentro in questo modo Ok a posto Adesso ragazzi vi faccio vedere tutti i tastini Tutte le perfezioni di questo fucile Allora ragazzi qua al lato destro abbiamo l'op up Vedete così modalità up E così modalità normale Ragazzi qua sotto qua abbiamo la sicura Si vede? Sì Abbiamo la sicura Poi cosa è andato cosa è andato cosa è andato Vabbè qua il tastino per tirare fuori il caricatore Basta che lo premete E estrete il caricatore Può cadere il pallino Figa 502 E filate dentro E avete il caricatore Ovviamente ragazzi è a pompa Quindi per caricarlo dovete Sparare a manual Ancora Caricare E ragazzi vedete Poi sparerà Sparerà Come sentite il colpo molto forte Adesso ragazzi faremo la prova di tiro Ragazzi ovviamente noi spareremo alle latine della Monster Con Call of Duty Infinite Warfare Se si vede bene Ecco vedete Qui sono i nostri bersagli di tiro Ovviamente ragazzi Per chi non ha mai visto i nostri video di Call of Duty Passate sul canale Che ne vedrete tantissimi E ragazzi ora si va a sparare Allora adesso ragazzi Cazzo io ma Si vede la moto Ok ragazzi adesso faremo la prova di tiro Prima inizierò io E poi mangiurino Andiamo? Via Volate nell'occhio Vai così Finalmente è arrivato il mio turno ragazzi Come vedete giorno abbiamo dovuto spostare la mia parte ad oggi Perché ieri è troppo tardi e c'è una bestemmia pubbossa Vai 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 Quando usate sempre gli occhiali Che i pallini fanno male Più cazzo io gli occhiali mi stiamo finendo Sono finiti sono finiti Ecco ragazzi questi qua sono i peggior colpi entrati Cioè ragazzi guardate è assurdo Molto molto Ecco colpi da dove è uscito Facci vedere manzulino Facci vedere Vedete ragazzi Cioè veramente Distrugge la lattina come niente Cioè proiettili Guardate come ti non escono fuori Assurdo E abbiamo anche la maniera infallibile che l'ha distrutta Certo figa Che hai sparato solo tu Vedete ragazzi Cioè è assurdo Vemente assurdo ragazzi Guarda qua che sono entrato da un lato e sono uscito dall'altro Cioè qua Qua Cioè qua è esplosa praticamente Guarda qua sono entrato da un lato e sono uscito dall'altro Eh vabbè come le altre Cioè ragazzi veramente distrugge le lattine come niente Fa i buchi li distrugge Vado Poverino abbiamo ferito anche il personaggio di Evo Guardate Guarda l'abbiamo ferito Poverino ci mancherà tanto Ecco ci mancherà tanto Cioè ragazzi guardate Mamma mia Ragazzi assurdo Allora ragazzi come vedete Questo è il fucile Alla fine abbiamo fatto le prove di tiro Abbiamo fatto tutto Adesso ragazzi arriva la conclusione Ci sono dei problemi ovviamente su questo fucile Come tutti i fucili Quindi questo fucile siccome costa 50 euro Vabbè più 10 euro in spedizione Pagate in totale 60 euro E' veramente poco per un fucile Infatti ha dei piccoli Leggeri problemi Dovete stare attentissimi Alla mimitica Perché rischiate di grattarla Come ho fatto io Questo piccolo puntino Perché se sbatte con qualcosa Si gratta via molto facilmente Quindi dovete stare molto attenti Poi ragazzi Una cosa che dà molto fastidio E' la sicura che c'è qua Che è molto dura E fa fatica a mettersi Fa male alle dita Esatto Fa male alle dita Ragazzi Il caricatore è tutto a posto A parte che è in plastica Può essere un po' fastidioso Sì ecco E' molto piccolo il caricatore 15 colpi Ma non si sentono praticamente Poi Ragazzi La molla qua pompa Praticamente si muove molto Più che altro Ma non dà tanto fastidio Più che altro E' per paura di romperla Cosa così E' fatto come sapete Esatto Molto fragile Come sapete E' fatto Metà in ABS Metà in ferro Ad esempio Questo qua è alluminio Ragazzi E questo qua è plastica Quindi Potete stare attenti Sempre a sbattere Così così Questa parte è in ferro Niente Del resto ragazzi Un fucile molto bello Economico Perché costa veramente poco Molto bello E ve lo consiglio Eccoci ragazzi A fine video Spero che questo video Vi sia piaciuto In tutto il caso ragazzi Mi raccomando Lasciate un bel like Se vedo questo tipo di video Vi piacciono ragazzi Ne porteremo molti altri ancora Siccome come avevo detto Già prima Abbiamo un botto di armi Da portare Niente ragazzi Da Isomano tutto Anzulino Qualcosa da dirci Regia Mi raccomando E' big like Così porteremo La recensione Del mio cecchino Giusto 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 Ragazzi Come avevo già detto Ragazzi mi raccomando Lasciate un bel like Commentate Iscrivetevi E ci vediamo A un prossimo video Bella raga Goodbye Bye